Tutto è pronto! Domani 20 luglio arriva la grande staffetta di Obiettivo 3 in Campania. Obiettivo tricolore, questo è il nome della manifestazione, nasce dal progetto di Alex Zanardi con la volontà di portare un messaggio di speranza, forza e resilienza. 70 atleti paralimpici in 54 tappe attraversano 18 regioni, passandosi un unico testimone per oltre 3000 km, mostrando con il loro esempio che è possibile andare oltre le difficoltà e che si può sempre cercare l'azzurro tra le nuvole. Domani sarà la volta di Lucia Nobis, atleta paralimpica campana, prudicampionessa italiana per la sua categoria, ricevere il testimone a Benevento per portarlo a Montella. La mia sarà l'unica tappa campana, spiega Lucia, e andrà da Benevento a Montella. Sarebbe stupendo avervi con me a pedalare, esclama l'atleta che risiede a Montella, ma sarà bello anche solo se vorrete fare un salto e dare il vostro supporto a Benevento a Montella. Ci saranno tante belle cose da fare insieme, tra cui conoscere il mondo paralimpico, ovviamente aggiunge Lucia. Se conoscete qualcuno con disabilità motoria o visiva, anche dovuto a malattie di vario genere, che voglia fare sport, è questo il momento di provarci. Al mattino già a partire dalle 9.30 a Benevento ci sarà infatti la possibilità di provare Land Bike o approcciare altri sport e presenziare la propria candidatura al progetto Obiettivo 3 di Zanarti. La mia partenza da Benevento è prevista per le 15, con arrivo a Montella e ritorno alle 18. Già nel primo pomeriggio a Montella ci sarà la possibilità per i bambini, grazie a Leonardo Mollo e Andrea Bosco, di svolgere attività ludiche in bicicletta e imparare, giocando qualcosa sulla sicurezza stradale. Sarà con noi anche la Fondazione Michele Scarponi, il CIP Campania e il Fede al Ciclismo Campania, nella persona del professore Giuseppe Cutolo, che ringrazio profondamente, insieme alle amministrazioni dei comuni di Montella e di Benevento, le polizie municipali, la protezione civile e le associazioni tutte, che stanno fornendo il loro supporto perché tutto si svolga alla perfezione. La sera a Montella, dopo il mio arrivo, aggiunge Lucia Nobis, ci sarà la proiezione del docufilm La Grande Staffetta, che racconta l'avventura dello scorso anno, insieme all'incidente di Alex Zanardi e la volontà di andare avanti nonostante tutto, insomma una vera e propria festa di tutti e per tutti, con un bel messaggio di luce, gioia, speranza, rispetto dell'altro e forza!